Oggi pomeriggio dopo la pausa estiva si torna in Consiglio Comunale per una serie di tornate appunto di sedute amministrative per approvare il bilancio e anche gli equilibri di bilancio. Un Consiglio Comunale però che si annuncia non proprio tranquillo soprattutto dopo la recente esternazione del sindaco di Viterbo Giulio Marini che ha appunto annunciato che il 5 settembre passate le festività di Santa Rosa avrebbe intenzione di dimettersi. Perché? Avrebbe, è sicuramente un verbo molto ampio, perché noi abbiamo necessità in questo momento di velocizzare l'attività dell'amministrazione perché abbiamo molte iniziative in cantiere tra cui i festeggiamenti delle macchine di Santa Rosa. Tergiversare in un momento sicuramente difficile come questo a livello nazionale ma internazionale ma comunque sia la caduta sulla città di Viterbo è sensibile. Tergiversare non ci permette di affrontare i temi di fine mandato che la mia ambizione ha di poter realizzare e quindi è bene che si possa interrompere l'attività amministrativa dal punto di vista politico da questa amministrazione per fare le riflessioni dovute per la prossima consigliatura. perché naturalmente se non c'è un clima sereno, se non c'è un clima di partecipazione, se non c'è un clima di produzione di risultati sarebbe lancinante arrivare alla fine e molto probabilmente non potremmo portare i risultati dovuti alla città di Viterbo. E' bene che a questo punto qualcuno si prenda il coraggio di interrompere affinché la politica faccia le sue riflessioni affinché tutti quanti al di fuori dalla macchina politico-amministrativa possano ricreare le condizioni per il futuro. Quindi è bene che ci sia un'interruzione mediamente lunga, politicamente mediamente lunga poi amministrativamente con la speranza che questo gesto non porti ad avere malefici su quelle che sono le progettualità a cui abbiamo avuto copiosi finanziamenti regionali possa lavorare e arrivare a portare a compimento i progetti che abbiamo in cantiere. La mia tensione è questa, cioè evitare che si possano togliere risorse mentali e discussioni a quello che oggi sono fattori amministrativi che dobbiamo fare. Se si privilegia la fase politica e molto probabilmente non si porta attenzione a quello che è la realizzazione dei progetti. Allora, liberiamoci di qualcosa e affrontiamo quello che probabilmente è l'ostacolo più gravoso, cioè la politica. Ritrovare la serenità nella politica può portare anche a utili suggerimenti per il futuro. Ho premesso ieri che quando a 17 dicembre dello scorso anno io ho consultato la mia maggioranza dicendo quali erano i programmi, quali erano i finanziamenti che stavano venendo sulla città di Viterbo. Tutti quanti mi hanno detto che era opportuno che tutti quanti fossimo decisi ad arrivare alla fine della consigliatura. Io questo ho fatto. Se qualcuno ci ha ripensato si assumerà la responsabilità del ripensamento. Lei fa riferimento appunto al fatto dell'incontro con la maggioranza che ha portato alle sue dimissioni da deputato per poter rimanere appunto come sindaco di Viterbo. Tutti erano dello stesso sentimento. Oggi è cambiato qualcosa. Dovranno dire chi ha avuto mutamenti perché è cambiato qualcosa. Perché è antipatico Giulio Marini, perché non lo vogliamo più sindaco della prossima consigliatura. Dovranno dire alla città che cosa pensano, che cosa vogliono, quali sono i programmi. Siamo arrivati al punto di derubricare la indennità di carica per dimostrare che oggi con i 5 milioni di euro tolti dal governo dentro questa amministrazione purtroppo ci sono solo sacrifici da fare. Più di questo credo che esempio il resto sono quisquiglie. Allora sulle quisquiglie io le supero in un'altra maniera. L'opposizione però legge questa sua intenzione di dimettersi come un tentativo di forzare la mano per far approvare il bilancio. Non è il problema dei problemi forzare la mano. Chi è malizioso può pensare ciò che vuole. Io non devo forzare niente, io devo portare a compimento quello che sono e ringraziare la Regione Lazio che ci ha dato un'opportunità, non l'ha data a me, l'ha data alla città di Viterbo, di avere 13 milioni che possono essere moltiplicati per un progetto di riqualificazione del centro storico. Se lo vogliono i Viterbesi lo potranno fare anche senza Marini. Ma intanto oggi il seme è stato creato, è stato portato alla città. L'importante, la cosa più importante per me è che quel seme della riqualificazione per cui ho avuto come primo obiettivo fosse portato a compimento, servivano risorse. Le risorse sono arrivate, quel progetto andrà avanti, senza Marini o con Marini. Qualora si arrivasse effettivamente alle dimissioni il 5 settembre, che cosa accadrebbe poi a Viterbo? Accadrebbe che ci sono 20 giorni di Giulio Marini dimissionario che dovrà valutare il tempo, il periodo in quei 20 giorni con un fatto però, che Giulio Marini è dimissionario. Quindi naturalmente Giulio Marini ha già preso una strada. Quella strada la percorre Giulio Marini. E quindi chi vuole lavorare per recuperare se ci sarà lo spazio deve naturalmente dare disponibilità a Giulio Marini. In caso contrario si andrebbe appunto al commissariamento e quindi alle elezioni poi a primavera? Sì, l'elezione è primavera e quindi naturalmente poi la politica potrà Viterbese potrà dialogare in maniera diversa, molto probabilmente in maniera più consona per un momento diverso, no? In un momento di mancanza della politica amministrativa molto probabilmente si possono trovare delle soluzioni diverse per il futuro. L'opposizione ovviamente fa il proprio ruolo, svolge il proprio ruolo ma per quanto riguarda la maggioranza, l'attacco appunto che le viene portato che tipo di lettura politica ne dà? Ma molto probabilmente non vogliono Giulio Marini nella prossima consigliatura ma basta dirlo che Giulio Marini non è che è stato convinto a fare il sindaco, sa, mia moglie me l'aveva detto che non lo dovevo fare però non ho dato retta a questa santa donna, non gli ho dato retta perché naturalmente l'amore per la città era più forte molto probabilmente c'era ragione mia moglie era bene che mi occupassi di altro e non entrassi in vicende che non mi riguardano.